buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di calendario posturale oggi lavoreremo sull'allungamento della muscolatura delle gambe e dei glutei e lo faremo straiandoci a pancia all'insù ci straiamo a pancia all'insù con i piedi in appoggio e le ginocchia rivolte al soffitto andiamo ad accavallare la caviglia destra sul ginocchio sinistro il ginocchio destro cerco di tenerlo quanto più possibile aperto verso l'esterno cioè verso destra da questa posizione stacco il piede sinistro e porto il ginocchio sinistro quanto possibile verso il petto con le mani passando con la mano destra tra le gambe e con la sinistra dall'esterno della gamba sinistra le intreccio e porto verso di me ancora di qualche centimetro o millimetro la gamba sinistra così da approfondire un po' la tensione sull'esterno della gamba destra se non riuscissi arrivare con le mani sulla gamba perché magari sento che il collo inizia a essere forzato allora molto semplicemente mi prendo da davanti il pantalone oppure non uso le mani e continuo col ginocchio a spingere un po' verso il petto ci mettiamo dunque in posizione e incominciamo con il nostro esercizio non voglio arrivare a un livello di tensione che non riesco a gestire su una scaladona 10 voglio stare sul 7 o 8 e mi dedico a fare ampi e quanto più possibile rilassati e respire e respire se posso approfondisco ancora un po la posizione tirando la gamba sempre senza forzare piano 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 si scioglie piano piano riporto il piede destro in appoggio carico la caviglia sinistra stacco il piede destro e con le mani mi aiuto a tirare ancora un pochino la gamba verso di me ampi respiri ancora qualche secondo rimango in posizione respiro e lentamente sciolgo anche questa gamba lo andremo a rifare una volta per gamba se serve però posso un po sciogliere le gambe distenderle o rilassarmi per qualche momento rimetteremo la caviglia sinistra sul ginocchio destro di nuovo apro bene il ginocchio verso l'esterno riprendo la gamba destra e la porto piano piano verso di me respiro rimango in posizione mi concentro sulla sensazione di tensione che percepiscono nell'esterno della gamba sinistra mentre ad ogni respiro cerco di sentire questa tensione lentamente diminuisce stragrante stragrante allora tutto prima Lentamente sciolgo la gamba, riappoggio il piede sinistro, carico il destro, stacco il ginocchio sinistro dal pavimento e piano piano aiutandomi con le mani cerco di avvicinarlo quanto possibile in direzione del petto. Ampi respiri. Grazie a tutti. Lentamente sciogliamo la posizione, se serve scuotiamo un po' le gambe, le possiamo stendere ed invece noi ci salutiamo dandoci appuntamento a domani per una nuova lezione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.